La parrocchia Regina Pacis avrà a disposizione dello spazio aggiuntivo da dedicare soprattutto ai giovani. È stato donato infatti alla stessa ad alcuni parrocchiani il terreno adiacente all'edificio della chiesa, circa 300 metri quadrati che costeggiano via Leone XIII per l'esattezza tra il parcheggio e il plesso palo borsellino dell'istituto comprensivo Lombardo Radice. Gli stessi bambini che frequentano la scuola dell'infanzia avranno una vista diversa dalle loro finestre, dato che nei giorni scorsi l'area è già stata ripulita effettuando le operazioni di sbancamento. Attualmente la parrocchia retta dal parroco Padrenzo Genova dispone già di un piccolo cortile sullo stesso lato in cui si trova il terreno, su cui si sta lavorando per realizzare un progetto vagliando le opzioni migliori. Questa nuova area permetterà dunque di estendere lo spazio per le attività oratoriali.